lo sai che cosa succede quando uno viene in Sicilia? uno piance tre volte lo sai perché? la prima volta che viene in Sicilia vedi è bellissimo il mare il sole dopo quando te ne vai pianci perché te ne vai dalla Sicilia e la terza volta? la terza volta è quando ti mettono da Belangia 10 kg in più